Ben trovati, nuovo appuntamento con Primo Piano, vi presento subito l'ospite di oggi, padre Gaetano Canalella, parroco della cattedrale. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'opportunità e dell'invito. Che settimana è stata? È stata una settimana un po' più intensa dal punto di vista della preparazione, della festa della solennità di San Michele Arcangelo. Abbiamo iniziato l'ottavario, abbiamo intronizzato San Michele Arcangelo nel coro della cattedrale. C'è, devo dire, più presenza di tanti devoti che vengono per onorare e pregare San Michele Arcangelo. Dal punto di vista della vita della parrocchia, domenica scorsa abbiamo celebrato un ritiro spirituale presso un santuario mariano, la Madonna dell'Olio a Blufi, dove ci siamo recati 45 persone, erano tutti operatori della parrocchia, operatori pastorali, per incontrarci, stare in semplicità tra di noi per pregare e anche confrontarci nei gruppi di studio dopo aver ascoltato anche una bella relazione da parte di padre di Vincenzo che ci ha parlato della parrocchia come comunione di comunità. Un tema quanto mai opportuno per noi che come parrocchia viviamo il cammino comunitario di tanti piccoli gruppi, associazioni, dagli scout, la zona cattolica, i gruppi di San Michele Arcangelo, la lega, la deputazione, i portatori, la zona cattolica, l'ordine francescana, sono tantissimi gruppi, figli in cielo, ce ne sono tanti, camminiamo insieme, però vogliamo anche guardarci in faccia, incontrarci, lodare il Signore perché ci fa incontrare e ci fa percorrere la stessa via. Questo incontro facilita anche la conoscenza reciproca tra i gruppi e anche stimola la collaborazione in delle attività che vengono considerate di servizio sia per la parrocchia sia anche per la carità. Come cambia, se cambia ogni anno, la festa di San Michele? Ecco, la festa di San Michele procede nella sua tradizione di generazione in generazione che viene trasmessa attraverso anche delle ritualità, delle gestualità particolari, però si rinnova anche perché le generazioni sono nuove, la devozione si trasmette anche ai figli più giovani, i quali poi riescono ad esprimerla secondo la loro formazione, il tempo presente, l'attualità del tempo che viviamo. Quindi c'è la trasmissione, diciamo, di un patrimonio che nello stesso tempo è vecchio ma anche si rinnova perché vive sempre della novità del Vangelo, non è una celebrazione di un lito pagano, è una celebrazione sempre di fede, per cui laddove c'è l'invocazione devota a San Michele Arcancelo c'è l'espressione di una fede nel Signore, in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che preghiamo per intercessione anche di San Michele Arcancelo.